Buonasera, ben trovati a Prato 7, pronti a ripercorrere i fatti salienti della settimana che si sta concludendo. Cominciamo il nostro percorso ovviamente da lunedì, quando nel telegiornale ci siamo occupati soprattutto di cronaca e della notizia dell'arresto di uno spacciatore che spacciava in strada addirittura in pigiama e ciabatte. È sceso in strada in ciabatte e pantofole per cedere due dosi di droga ad una giovane connazionale, ma ad aspettarlo c'erano i carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo investigativo che avevano intensificato i controlli in zona dopo aver appreso di un'attività di spaccio al dettaglio. In manette è finito un cinese di 23 anni, irregolare in Italia, nella cui camera da letto, perquisita dai militari, sono stati sequestrati 8.000 euro in contanti e un ampio campionario di droga. Un chilo e mezzo di chetamina, diverse pasticche di ecstasi, alcune dose di shabu, 20 spinelli di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi che venivano sapientemente nascoste. In particolare quella di occultare piccole dosi di chetamina all'interno di confezioni apparentemente di tè, con la scritta appunto di tè cinese all'esterno e poi elettrosaldate attraverso l'apparecchiatura che avete appunto vista e sposta. Oltre 60.000 euro il valore della droga sequestrata dai carabinieri, secondo gli inquirenti, era destinata oltre che allo spaccio al minuto anche per il consumo nei locali cinesi, dunque circoli e discoteche. La chetamina in particolare è famosa per essere la droga dello sballo, in origine un anestetico per cavalli, poi utilizzato per lo sballo dei giovani cinesi. Essendo un forte anestetico induce quelle sensazioni di contrasto agli eccitanti e viene utilizzato nelle discoteche dai giovani appunto per contrastare l'effetto degli alcolici, nel senso che quando un giovane che assume sostanze alcoliche sente che ha raggiunto il suo limite, con una dose di chetamina può annullare, tra virgolette, l'effetto della sostanza alcolica e continuerà a bere con eventuali danni più gravi fino ad arrivare al coma etilico. Martedì invece ci siamo occupati della questione sicurezza e degrado perché l'amministrazione insieme a Ferrovie per lo Stato ha deciso di chiudere con dei cancelli gli ingressi alla stazione centrale, soprattutto nell'orario notturno, questo per evitare appunto bivacchi e presenze indesiderate. Cioè ok per motivi di sicurezza può darsi anche sia giusto, però insomma che ci si debba privare noi perché c'è tra virgolette le persone poco serie che ne fanno altro uso non va bene. Ma bene perché effettivamente c'è un brutto giro qua, noi siamo spettatori di situazioni, di eroinomani che si bucano, si trovano qui tutte le singhe, si vedono bucarsi quindi sicuramente il giro non è dei migliori. Scatterà nella notte tra il 29 e il 30 ottobre la chiusura serale della Galleria della Stazione Centrale. Il sottopasso che collega Piazza Stazione a Via Pietro Giannone sarà reso flimizi in certi orari per motivi di ordine pubblico, decoro e sicurezza. Attraverso un servizio di vigilanza privata e appositi cancelli, Ferrovie provvederà alla serrata a luna di notte e alla riapertura alle 4.45 del mattino prima del passaggio del primo treno del giorno. Un provvedimento antidormitori e antibivacchi che però divide l'opinione di pendolari e residenti della zona. Per alcuni si tratterebbe di una misura di sola facciata che rischia di risolvere poco in termini di contrasto alla microcriminalità, a danno invece di emarginati e senza tetto. Altri utenti al contrario si dicono soddisfatti. Si sta qui di fronte? Si, la strada lì prima di arrivare a Sugana. Che cosa vede la notte? Si vede tutto, si sente più tranquilli, però dispiace perché a volte c'è qualcuno che ha bisogno di dormire, non c'è un posto in dove dormire, sono gente per bene perché a volte ci si è parlato delle persone che sono qui a dormire, dispiace perché la gente è lì che non ha un posto in dove stare. Quello che di notte possiamo eliminare, poi di giorno lo possiamo ritrovare se non c'è un controllo. Questa è un'opinione mia personale, però meno cancelli e un pochettino più di attenzione. Mi sembra obbligato, visto la situazione che circola. La notte ci circola droga, persone un po' raccomandabili. Il provvedimento di chiusura segue il divieto scattato nel 2015 di accesso ai binari durante la notte. In quell'occasione furono installate barriere all'inizio delle scale per evitare dormitori lungo i binari e all'interno delle salette di attesa. Quindi sulla chiusura lei è d'accordo? Certamente sono d'accordo. Si sente più tutelato? Certo, ci vuole più controllo, ma la parola controllo non è democrazia, dice. L'ordine pubblico non è questo. Quale sarebbe secondo lei la soluzione alternativa? Trovare un alloggio, una casa, una sistemazione per queste persone è disagiata. È decisamente diverso invece l'argomento dell'altra notizia che abbiamo messo in primo piano martedì, riguardante invece le aule del liceo scientifico del Conservatorio di San Nicolò che si sono dotate di tecnologie all'avanguardia, vere e proprie aule 4.0, con gli alunni che potranno studiare anche grazie all'ausilio della realtà virtuale. Visitare un museo o i fondali del mare, essere presenta per l'arbor durante il bombardamento. Sono solo alcune delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle aule 4.0 del Conservatorio di San Nicolò. La scuola, grazie alla donazione della famiglia Marini al lavoro di TT Tecno Sistemi e Acer, ha dotato le cinque aule del liceo scientifico di alcuni strumenti in grado di rendere le lezioni interattive. Tutte le classi della sezione dello scientifico avranno un monitor interattivo ed un visore in grado di sviluppare la realtà virtuale. Gli alunni potranno così fare lezioni usando sia i metodi tradizionali che quelli avanzati tecnologicamente, potendo contare sulla potenzialità della realtà virtuale. Accanto alla tradizionale lavagna d'ardesia si aggiunge questa nuova tecnologia che permette un'innovazione nella didattica sicuramente importante. Ma vogliamo coniugare tradizione e innovazione e siamo certi che lo scopo della scuola sia introdurre alla realtà, non alla realtà virtuale e che i docenti, i libri non tramonteranno mai. Siamo contenti e siamo molto grati alla famiglia Marini che ha voluto offrire alla nostra scuola questa tecnologia che fa della nostra scuola la prima scuola in Italia che ha tutte le aule attrezzate con questa tecnologia. Le aule sono già pronte, i docenti sono stati formati. Quest'anno servirà da sperimentazione per entrare presto al regime. Una volta addossato il visore, il ragazzo o il docente può tranquillamente scaricare da un portale gratuito che viene utilizzato e è nato principalmente per i videogiochi un'ambientazione improntata per la didattica. All'interno di questa ambientazione, attraverso queste manopole che poi vedrete, si può utilizzare il trattasporto e muoversi all'interno del mondo virtuale, immersivo. E quindi può vivere in prima persona l'esperienza che abbiamo scelto e il docente ha scelto per insegnare la propria materia. Mercoledì invece ci siamo occupati di lavoro perché in edilizia in sette anni si sono persi mille addetti numeri forniti dalla CGL che poi ha detto che occorrono investimenti per infrastrutture, manutenzioni e rigenerazione di edifici. In Toscana dal 2011 al 2017 in edilizia si sono persi 20.000 addetti e il 27% delle aziende. A Prato la crisi del settore è stata ancora più pesante, meno 42% degli addetti, passati da 2.322 a 1.346, mentre le imprese sono scese da 570 a 412. Il Monte Salari denunciato è calato di oltre il 25%. È in questo quadro che la filea CGL Toscana si è riunita oggi al Museo del Tessuto per svolgere il suo nono congresso. Il sindacato denuncia che l'edilizia è diventata una giungla, in particolare nel subappalto, i cui limiti sono sempre più aggirati. Lavoro nero, lavoro dipendente mascherato da partite IVA, applicazione di contratti di lavoro meno onerosi rispetto a quello dell'edilizia, come il multiservizi, il metalmeccanico o delle cooperative sociali, che permettono di partecipare ad appalti pubblici con offerte più basse, ma sono senza prestazioni della cassa edile, senza formazione di settore, né tutele adeguate sul fronte della sicurezza. Abbiamo sul tavolo un protocollo sugli appalti di servizi e di lavori, dove noi puntiamo come settore a inserire il giù per congruità che darebbe modo effettivamente di verificare la connessione tra il valore dell'opera e il personale impiegato e magari dopo il protocollo provare a tramutare questo come impegno normativo. La CGL chiede alla politica nazionale e locale investimenti per infrastrutture, manutenzioni, rigenerazione di edifici già esistenti per cavalcare quei timidi segnali di ripresa che si avvertono. Ma proprio sul tema infrastrutture, l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli ha espresso preoccupazione, riferendo che Autostrade ha sospeso il lotto inciso a Valdarno per la terza corsia sulla 1 e potrebbe bloccare anche la realizzazione della terza corsia sulla 11 nel tratto tra Firenze e Pistoia, progetto che fra le opere accessorie prevede anche il raddoppio del Ponte Lama. Mentre Autostrade ci ha detto che i lavori che sono in corso li porta avanti, quelli che non sono invece iniziati non li mette in programmazione perché a seguito dell'avvio del procedimento per la reuta delle concessioni rispetto a quello che è successo al Ponte Moranti, eccetera, loro mi hanno detto tra i più di più che mi hanno detto con scherchezza, noi ci risponiamo ad un lungo, ad un lungo contenzioso ma a che titolo dovremmo continuare a progettare, programmare opere se domani non saremo con titolari delle concessioni? Mercoledì ci siamo occupati anche della ormai annosa questione degli scarti tessili e dello smaltimento degli scarti tessili perché la regione per il momento sta facendo orecchie da mercante alle richieste di incontro delle associazioni di categoria e Confartigianato è tornata a ribattere sull'argomento e sul bisogno, sulla necessità di impianti di termovalorizzazione per cercare di risolvere il problema. Resta centrale ancora è risolto il tema dello smaltimento degli scarti tessili per le aziende del distretto perché la regione continua a rinviare l'incontro con le associazioni economiche per affrontare la questione. L'ultima data sembrerebbe quella del 21 novembre prossimo. Un'ennesima posticipazione mal digerita dalle tre associazioni economiche dell'area CNA Toscana Centro Confartigianato Imprese Prato e Confindustria Toscana Nord che parlano di grave atteggiamento dilatorio della regione mentre le aziende continuano a vivere ogni giorno l'emergenza rifiuti e reclamano risposte concrete. Risposte che secondo le associazioni devono guardare non solo all'emergenza ma anche nel medio e lungo termine per dare soluzioni definitive al problema soluzioni che hanno un nome ben preciso ovvero termovalorizzatori. L'appello alla regione in particolare al governatore Rossi è dunque quello di accelerare le tappe. È proprio il caso di dire che questa volta siamo stati veramente trattati noi come spazzatura. Insieme alle altre associazioni di categoria avevamo programmato un incontro all'inizio settembre dove il nostro intento era quello di fare delle proposte alla regione questo incontro non c'è mai stato e ci dispiace che l'onere dello smaltimento sia soltanto a carico delle imprese quando in realtà dovrebbe essere secondo me la regione con un piano dei rifiuti ben organizzato in qualche maniera ci indichi quelle che sono le direttive e le strade da percorrere. Chiede alla regione una risposta rapida e concreta anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Secca la replica della regione con l'assessore all'ambiente Fratoni che bacchette al sindaco e sembra scaricare l'onere sulle associazioni. I rifiuti urbani sono oggetto di un servizio pubblico pianificato dalla regione. Gli scarti tessili sono scarti di un processo industriale e il loro smaltimento è compito prioritario di chi li produce ha ribattuto l'assessore che poi ha invitato gli imprenditori ad avanzare proposte progettuali finalizzate alla chiusura del ciclo produttivo con lo smaltimento degli scarti. Giovedì abbiamo parlato invece della novità in arrivo tra fine novembre e inizio dicembre perché sulla ciclabile tra il Serraglio e Santa Lucia arriveranno due robot sentinella che avranno compiti di sorveglianza ma faranno anche d'ausilio per i cittadini e per i turisti. Sulla ciclabile sono in arrivo le sentinelle robot realizzate dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nell'ambito del progetto Riversibility i due robot avranno il muso di un orsetto e un monitor interattivo sulla pancia e sorveglieranno le piste ciclabili lungo il Bisenzio e dal Serraglio a Santa Lucia. È il primo caso in Europa di sperimentazione di video sorveglianze in un luogo pubblico all'aperto di robot umanoide finora utilizzate in luoghi chiusi e soprattutto in ambito sanitario. I Big Hero Sitter questo è il nome dei robot che arriveranno tra la fine di novembre e dicembre avranno compiti di video sorveglianza con telecamere collegate con tutte le centrali operative delle forze dell'ordine ma saranno in grado anche di fornire informazioni e servizi. All'inizio i robot resteranno in zona Serraglio per poi espandere il raggio d'azione fino a Santa Lucia. I robot sono progettati in modo da garantire servizi accessori ovvero la possibilità di eseguire ulteriori attività contemporaneamente alla video sorveglianza che resta la loro funzione prioritaria. Tra questi servizi ci sono ad esempio le relazioni con il cittadino e le informazioni turistiche per ora in italiano e in inglese e poi anche in cinese. A ausilio per i cittadini svantaggiati quali sistema di guida per non vedenti avvisi di pericolo per bambini supporto per utenti con ridotta deambulazione. Potranno essere teleguidati in remoto da operatori oppure agiranno autonomamente all'interno dell'area del parco fluviale. Saranno dotati su davanti di touchscreen per permettere ai cittadini stessi di usufruire di connessioni dirette con operatori o centralini di pubblica utilità in caso di criticità o per ricevere o fornire informazioni alla pubblica amministrazione. E giovedì siamo tornati sulla questione della chiusura della stazione centrale in orario notturno perché la ronda della Caritas ha fatto un appello al comune chiedendo che si trovino altri spazi per accogliere chi ha bisogno. Ok, chiudiamo le gallerie, riqualifichiamo piazza della stazione che credo ne abbia bisogno però apriamo qualche cos'altro perché sono molto 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 preoccupato per i mesi a venire perché se comincia a scendere la temperatura sotto lo zero non vorrei mai ci scappasse il moto. L'appello arriva da Giacomo Parretti della Ronda Caritas l'iniziativa di prossimità sociale che ormai da quasi 20 anni aiuta i marginati e senza tetto ad affrontare notti di freddo e gelo. gruppi di volontari armati di coperte Teccaldo e Panini nel loro giro serale presidiano anche la zona della stazione centrale dove nella galleria cercano riparo persone in reale difficoltà. Quella stessa galleria che dalla notte del prossimo 29 ottobre chiuderà i cancelli per questioni di sicurezza e ordine pubblico sarà ferrovia ad occuparsi del servizio di apertura e chiusura tramite vigilanza privata dall'1 alle 4.45 del mattino. Di qui l'appello della Caritas affinché il comune possa aprire altri spazi e venire così incontro a quei soggetti che vivono in strada in condizioni di disagio. Allora bisognerà seguire la massa delle persone che si sposteranno da lì a qualche altra zona. Diciamo che si navigherà a vista se questa chiusura avverrà così repentinamente. Una richiesta a cui risponde prontamente il sindaco Matteo Biffoni intanto per i primi di novembre è fissata una riunione tra le varie realtà associative per pensare a riorganizzare il servizio delle ronde nella zona. Noi apriremo durante la fase invernale gli spazi ulteriori spazi in via Roma quella che era l'ex Palazzinanci che verrà poi trasformata in un luogo per l'emergenza allogiativa ma in quest'inverno intanto lo utilizzeremo oltre ai luoghi che ci sono c'è il dormitorio della Caritas femminile e ovviamente a quello della Lapira in centro per l'emergenza freddo nel momento in cui verranno mesi più invernali nel frattempo faremo partire anche un percorso di riqualificazione della stazione di piazza della stazione L'idea è quella di dotare la piazza di una nuova illuminazione rimodulare i parcheggi e intervenire sui giardini resta poi l'intenzione dell'amministrazione di acquisire da ferrovie l'ex scalomerci della stazione per dare una nuova vita ai locali insieme a CAP Abbiamo un progetto secondo me molto bello che ci potrebbe permettere di togliere gli autobus da dove sono di fare diventare lo scalomerci come punto d'approdo dei bus che arrivano alla stazione insomma un bel progetto che davvero ci permetterebbe di compiere l'ultimo passo dopo la riprofitazione del giardino su piazza della stazione ma bisogna ferrovie per l'Italia ci concede la possibilità di acquisire quegli spazi e venerdì abbiamo parlato della puntata di parliamoci chiaro di giovedì sera dove ci siamo occupati di illegalità e sfruttamento del lavoro e proprio su questo tema abbiamo raccolto la testimonianza di un'imprenditrice che ha detto costretta a licenziare due dipendenti per la concorrenza sleale costretta a licenziare due dipendenti a causa della concorrenza sleale delle attività illegali è la storia di un'imprenditrice di Quarrata titolare di una stileria industriale che all'indomani della notizia della doppia sospensione tripla riapertura della stileria di Oste ha scritto al sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini lanciando un grido di aiuto e che cosa succede? succede che noi danno 100-200 maglie per lasciarci aperti gli altri invece li caricano delle furgonate di roba quindi i costi delle altre aziende di queste aziende che lavorano nelle illegalità sono bassi sono bassissimi sono da fame giustamente io ho scritto al sindaco perché volevo ribadire che sì si devono responsabilizzare i proprietari degli stanzoni ma i primi ad essere responsabilizzati devono essere i committenti dover mettere a casa due persone dopo aver chiesto la CIG dopo aver cercato di tenerle in tutti i modi che lavorano con me da dieci anni per me è stato un fallimento personale Enza Romolo si è fatta portavoce di una piccola e media impresa sana e rispettosa delle regole ieri sera parliamoci chiaro settimanale di attualità di tv Prato in onda ogni giovedì sera una testimonianza di fronte alla quale il sindaco Lorenzini ha annunciato di voler scrivere a tutti i parlamentari pratesi al governo al prefetto al presidente della regione per chiedere una soluzione per Prato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Manuele Berselli ospite in studio ha dichiarato di volersi fare portavoce di questa istanza presso i parlamentari La Pietra e Donzelli un'altra richiesta avanzata dal primo cittadino di Montemurlo riguarda la possibilità di concedere ai sindaci strumenti più efficaci per chiudere le partite IVA inesistenti sono il 15% nel sole comune della provincia sono il segno di un'estrema disinvoltura nel cambiamento di titolari a capo delle aziende ho detto sempre c'è un'ordinanza di chiusura di un'impresa che sta facendo il giro da Venezia Bologna Genova perché noi per far chiudere un'impresa dobbiamo ancora utilizzare il vecchio metodo cioè le mandiamo con i messi dai comuni e così via allora se si apre una partita pepecchie anche pepecchie si deve far chiudere dall'attivazione dell'ultimo protocollo a maggio molti lavoratori stranieri sfruttati si rivolgono ai mediatori culturali dell'assessorato all'immigrazione 30 in tutto sono stati coloro che hanno chiesto aiuto al comune invece che alle forze dell'ordine per quanto riguarda le possibili soluzioni per stroncare il sistema di sfruttamento secondo il vice sindaco Simone Faggi sarebbe opportuno arrivare alla revoca del permesso di soggiorno per i titolari di azienda stranieri che sfruttano i lavoratori il datore di lavoro deve essere punito per quanto prevista l'articolo 603 bis e quindi con una condanna anche notevole che deve portare come conseguenza la revoca del titolo di soggiorno ci sono gli articoli di legge della 286-98 che lo consentono Nel Tg di ieri ovvero di sabato ci siamo occupati di influenza perché da lunedì parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale della regione 800.000 le dosi a disposizione sono 777-340 le dosi di vaccino anti-influenzale che la regione toscana ha acquistato per la stagione 2018-2019 e che saranno somministrate presso i medici di famiglia e negli ambulatori delle asle dal 28 novembre la nuova campagna di vaccinazione è stata presentata dall'assessore regionale Stefania Saccardi e punta a una copertura che superi il 55% dello scorso anno quando si sono verificati 15 decessi l'appello è a vaccinarsi la vaccinazione ricordo è gratuita per le persone che hanno sopra i 65 anni oppure che hanno particolari condizioni personali quest'anno offriamo la vaccinazione anti-influenzale è gratuita anche per i donatori di sangue perché anno scorso abbiamo avuto un pericoloso calo di donazioni proprio a seguito dell'influenza destinatari del vaccino sono in particolare gli appartenenti alle categorie a rischio gli operatori della sanità e gli ultra 65 anni per cui da alcuni anni la Toscana ha introdotto anche la vaccinazione gratuita anti-pneumococcica i medici di medicina generale in tema di vaccini oltre alla registrazione dei dati delle persone vaccinate nel sistema informativo regionale si sono dati un impegno preciso ci siamo dati questo mandato entro il 15 del mese di dicembre di fornire anche la possibilità nell'ambulatorio del medico di fare tutte le altre vaccinazioni che sono comprese nell'EA nel piano sanitario vaccini 2017-2019 quindi dare la possibilità anche al medico di effettuare laddove il paziente lo richieda nel proprio ambulatorio le vaccinazioni che sono previste in questo piano alle dosi di vaccino già consegnate da Estar alle ASL si aggiungono quelle di colecalciferolo e quelle di vitamina D offerta agli anziani insieme alla vaccinazione i vaccini servono sono importanti sono importanti non soltanto nella popolazione infantile ovviamente ma anche nella popolazione adulta e possono aiutare soprattutto l'anziano ad avere un fenomeno infettivo più attutito oppure a non soffrirne del tutto perché purtroppo le influenze poi quando arrivano possono essere anche molto importanti per le conseguenze che possono avere per la vita delle persone anziane quindi non scherziamo troppo con i vaccini Questo era l'ultimo servizio Prato 7 termina qui e torna ovviamente domenica prossima alle 20.30 su TV Prato Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di sera Grazie a tutti